eccoci qua ragazzi eccoci qua a mamma mia vediamo un poco un poco le posizioni vediamo un poco le posizioni un poco di comodità fatevi salutare hola hermanito sono gia7 e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato parliamo di voci di mercato e parliamo di tante cose perché ci sono veramente tante 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 novità da ieri mattina a questa parte il video immagino lo vedrete intorno alle 4 del pomeriggio adesso vediamo ma ci sono tantissime cose in tutte le zone del campo di cui bisogna assolutissimamente parlare allora da che cosa vogliamo che cosa vogliamo partire cosa vogliamo partire io partirei dalla trattativa in questo momento più calda di tutte la trattativa che può effettivamente cioè che quella è quella più probabile non è quella che quasi al 100 per cento diciamo intorno al 90 per cento h3 quello di cui parlano tutti quanti e quella sulla bocca di tutti di cui parla parla anche pletti gol tra altre cose un giornalista molto informato di di calcio mercato sempre di sky ne parla di marcia ne parla pedullà andiamo a leggere immediatamente la notizia che riguarda romero lukaku perché romero lukaku ha trovato l'accordo col napoli il napoli è pronto anche a spendere tanti soldi e questo che significa significa che l'obiettivo di de laurentis è quello di puntare in alto perché se si spendono questi soldi per un giocatore 31 anni ovvero nulla a che vedere con quelle che sono le politiche del napoli le intenzioni non possono che essere buone lukaku vuole andare a napoli e il celsi chiede circa 40 milioni della clausola i club passeranno a colloqui concreti ma non appena si finalizzare si finalizzerà la trattativa però si manano presa in germen ma il club azzurro non vuole spingersi oltre 25 milioni per l'attaccante belga come giusto che sia per me già 25 milioni sono tantissimi però napoli vuole acquistare lukaku e secondo me se la scelta cioè se la scelta che ha fatto antonio conte è la scelta corretta a tutti gli effetti e subito dopo c'è luca di marzio il napoli ha trovato un accordo con lukaku quindi non si tratta solo di dare priorità non si tratta solo di una una questione di volontà del calciatore c'è l'accordo totale non è solo il gradimento per la piazza il gradimento per la destinazione il gradimento per antonio conte si tratta proprio di accordo a tutti gli effetti il napoli ha trovato un accordo con lukaku per un ingaggio da 6 milioni netti più bonus fino al 2027 dagli 11 milioni netti siamo passati ai 6 milioni netti quindi veramente lukaku sta facendo il possibile per venire a napoli il celsi vuole 35 milioni di euro il napoli vorrebbe spendere qualcosina in meno quindi il celsi già abbassato quelle che sono le pretese per il calciatore belga e questa non può che essere una una buona notizia abbiamo anche fabrizio romano la trattativa per lukaku dipende da quella prossima con il paris in germe ma questo ovviamente già lo sapevamo il belga non vede l'ora di venire a napoli si parla ragazzi praticamente solo ed esclusivamente di questo e quindi bisogna bisogna attendere bisogna bisogna avere un poco di pazienza io ripeto continuo a dirvi ragazzi sembra che il calciomercato del napoli sia praticamente roba quasi finita invece non la penso così io sono pronto a più di qualche colpo di scena nel nel calciomercato del napoli perché secondo me sia conte che mannano più di qualche colpo in canna che fa anche che fa anche rima poi voglio fare una piccola una piccola chiosa sulle dichiarazioni di di tommaso bianchini che sicuramente faranno un po di scalpore quando si tratta di queste cose un po criptiche si fa sempre un po di scalpore oggi tommaso bianchini intervistato da carlo al vino cifre venio officer 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 della ssc napoli ha svelato che lunedì ci sarà una grande sorpresa per tutti i tifosi azzurri questo è quanto riporta lo stesso carlo al vino tra le altre cose io ho sentito questo stralcio di intervista ha detto tommaso bianchini è una sorpresa che farà che farà discutere molti hanno ipotizzato l'eventuale seconda maglia secondo me alla fine questo sarà sarà magari una seconda maglia particolare che farà con qualche con qualche dettaglio interessante chi lo sa ma sarà questo anche perché tommaso bianchini non è che si occupi di di calcio mercato quindi non aspettatevi che la sorpresa di lunedì sia messi cioè nel senso non penso non penso che si tratti di questo tipo di di questo tipo di sorpresa magari può essere chi lo sa una una maglia presentata da un calciatore in particolare chi lo sa tutto può essere che al napoli piace fare queste cose un po un po particolari l'ha confermato lo stesso fabrizio ramano che ha detto che la squadra più difficile il club più difficile da decriptare dal punto di vista del calcio mercato in italia è proprio il napoli perché a dell'aurenti spiace tenere le trattative molto segrete e lavorare sotto traccia una cosa che può gasare questo può gasare nel frattempo fatemi fare un sforzo così acqua è acqua giuro giuro che acqua c'è solo questo bicchiere ma è acqua acqua giuro giuro it's it's water it's water non è rocchetta lo so ragazzi però è sempre acqua diciamo un sorso dalla vostra buona l'acqua voglio buona l'acqua soprattutto quando sono i 50 gradi fuori detto ciò ci sono tante notizie tante notizie per quanto riguarda le fasce per quanto riguarda le uscite su hostigard bisogna vedere perché a quanto pare non è convinto il 100 per cento del del ren nonostante il napoli sia molto convinto di volerlo cedere ha trovato già l'accordo con con il calciatore per quanto riguarda le altre uscite bisogna attendere gaetano tra l'altro vorrei fare un video a proposito delle dichiarazioni di conte in cui ha detto che c'è tanto 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 su cui lavorare magari qualcosina in più di quello che si aspettasse sono uscite notizie su conte che ha bocciato vari giocatori e questo ovviamente non credo c'è bocciato anche addirittura angonge quel quel quell'altro l'instorm tra l'altro che uscirà e è tornata la lazio ragazzi sul ciolito simeone perché immobile è stato ufficialmente ceduto al besictas secondo me sarebbe un buon colpo per la lazio sarebbe un buon una buona scelta anche per il ciolito simeone che per me potrebbe far bene in realtà anche con con conte però il napoli vuole vuole rivoluzionare napoli vuole cambiare vuole cambiare tutto vuole cambiare veramente tutto quindi la lazio pensa a simeone come come post immobile e il napoli dovrebbe andare anche ad occupare quello slot a meno che non voglia puntare proprio sullo stesso che dire che pare che comunque nel nel precampionato stia facendo bene pare essere in forma magari se piace a conte si può fare io la mia discriminante ragazzi nell'analisi del dei colpi di calcio mercato è sempre piace a conte piace a me piace non piace a conte non piace a me poi si possono dare chiaramente delle delle opinioni personali dicevo bisogna aspettare la cessione di gaetano il napoli sta provando a cedere juan jesus politano dovrebbe rimanere il napoli proverà a cedere anche mario ruino nonostante comunque si stia parlando tanto del fatto che potrebbe essere confermato secondo me no perché non penso che mario ruia abbia abbia un posto in in questo assetto tattico non non è non è il calcio tradatto voi sapete quanto io lo ami quanto io l'abbia sempre sostenuto quanto pensi che sia un terzino estremamente sottovalutato però non ce lo vedo non ce lo vedo assolutamente e e quindi su questo bisogna bisogna valutare molto bene uno tra nata ne guangio e su se no addirittura tutti e due bisogna vedere mario hermoso ragazzi vi ripeto c'è proprio c'è c'è un mondo in questo momento c'è un mondo c'è ancora un mondo se l'anno scorso in questo momento probabilmente siamo piano a cajust in questo momento dobbiamo fare il triplo quadruplo quintuplo tra l'altro piccola chiosa ragazzi mi sa che non riuscirò a portarvi il video del dell'amichevole di oggi perché sarò al campo io sono a roma per per la youtuber summer cup e tra l'altro dovremmo giocare proprio intorno a quell'orario lì quindi non vi posso non vi posso portare il contenuto proverò a portarvi il contenuto magari un contenuto più breve su tik tok e su instagram e dicevo si parla di centrocampo si parla di centrocampi sono delle voci che girano che circolano su te un cup miners ragazzi il napoli aveva già offerto tanti soldi per come si parla di 48 milioni al giocatore 48 milioni al club e 3 milioni e mezzo al giocatore l'hanno confermato in realtà varie fonti rifiutati questi soldi dall'atalanta per un obiettivo molto difficile io continuo a sostenere che con miner se lo dovevi prendere lo devi prendere quando era la zeb perché adesso è tardi è tardi e deve andare bene andare veramente a strapagarlo poi se lo prendissimo sarebbe un colpaccio clamoroso ecco quello che dice tutto mercato web il napoli vuole reinvestire i soldi della cessione di osimen non solo su lukaku ma anche su cup miners perché ricordatevi ragazzi che la cessione di osimen porterà un gran bel tesoretto come porterà un tesoretto anche le altre sessioni bisogna ricordarsi che il napoli viene da un paio di sessioni di mercato in cui non è che abbia speso chissà che cosa quindi c'è un bel po c'è un bel po di tesoretto c'è un bel po di di denaro a cui attingere e poi voglio leggere quest'altra quest'altra notizia che sta circolando l'ha confermata anche carlo al vino che a me farebbe impazzire voi sapete sapete quanto mi piaccia questo giocatore conte ha parlato a più riprese di culuseschi con manna mamma mia quanto vuoi culuseschi sarebbe il top del top del top del top del top calciatore ancora giovane se non mi sbaglio classe 2001 o classe 2000 forse un classe 2000 adesso vi dico vi dico subito mi sembra un classe 2000 forse classi dovrebbe essere un classe 2000 classe 2000 25 per di 2000 comunque 24 anni ne farà 25 e diciamo non è giovanissimo però è un giocatore che con conte ha fatto super bene che per me ha tutto a dribbling a corsa ti salta l'uomo a il destro e il sinistro assiste nelle gambe a gol nelle gambe il campionato italiano per me lui è perfetto la delle preta pure comunque un fisico abbastanza impostato c'è un fisico abbastanza confident ecco col col suo fisico io l'anderei a prendere immediatamente culuseschi alle alle condizioni giuste culuseschi da una parte quara schierata all'altra tra l'altro abbiamo anche le due canzoni migliori per per questo ciò abbiamo a ginger from from sweden and a ball from georgia quindi veramente meglio di così non si può a proposito quara schierata si è parlato di un cambio di numero di maglia ma secondo me alla fine non sono sicuro che ci sarà e poi l'ultimo giocatore di cui si parla per il centrocampo che secondo me sarebbe tanta roba sempre si è messo nelle condizioni giuste si parla di billy gilmore ecco matteo moretto il napoli segue con interesse billy gilmore che non so se vi ricordate il napoli seguiva già nel 2020 addirittura se ne parlava nel 2020 adesso vi dico con con pisati si parlava molto con molto insistenza ragazzi di con molta insistenza di questo napoli aveva trattato che trattava col celsi si parlava di una recompra tutte queste cose qua che poi non non andarono in porto per il club inglese un calciatore molto importante in questo momento non è aperto ad ascoltare offerte per lui billy gilmore un contratto in scadenza nel 2026 poi uscita invece una notizia proprio oggi di talk sport in cui ha parlato di una posizione un poco più ammorbidita il brayton potrebbe vendere gilmore se il napoli dovesse offrire 14 milioni di euro che secondo me sono una cifra che ci può stare un grande centrocampista secondo me di qualità che ti può dettare ti può dettare i tempi di gioco che ti può far girare la squadra che secondo me come mezzala è perfetto ho letto alcuni vederlo più da vertice basso secondo me da vertice basso perde un po perde un po come mezzala è tanta roba e niente ragazzi questa è la situazione al momento mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale iscrivetevi troverete facebook instagram twitter tutto quello che volete sarà lì giù dovrete anche i g7 shorts il mio canale dove mi sono bloccato dovrete anche i g7 shorts un pubblico teleclippi 20 congi o 23 nel canale tu preferiti noi ci siamo la prossima volta sempre comunque tutta la vita forza poi